Ho sempre avuto un contatto in Italia molto forte e inesplicabile per me perché non sono italiano ma mi sento sempre a casa qui e la mia carriera in Italia mi ha dato tante tante cose e quando ho cominciato di lavorare qui veramente ha cambiato le mie idee del cinema perché ho cominciato con un grande, grande regista, Francesco Rosi e lui aveva un tipo di estetica che non ho visto prima e aveva un direttore di cinematografia che si chiama Pasqualino di Santis e lui era un legend di cinematografia e lavorare con queste due e con Gian Maria Volontè era per me una nuova direzione della vita che ho continuato perché ho fatto tanti film qui in Italia e erano dei più belli della mia carriera allora sono molto molto contento e è un momento molto fortunato per me di avere questo premio perché preparo il mio proprio film che gira a Napoli e mi mette nel testo di gente così sono felicissimo. Sì, questo è il mio film che ho scritto della vita in exile di Oscar Wilde e girerò questo film a Napoli e allora il mio rapporto con l'Italia è sempre continuo, non lo so perché non lo so perché